Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Padre Peter, aiuto! Mi offinerò! Amen. Padre Daniel, vorrei presentarle Padre Peter Costello. Padre Daniel è altamente raccomandato come la nostra nuova e migliore recluta. Che ti ha detto l'Arcivescovo di me? Che sei il migliore esorcista al mondo. Quello che non ti ha detto è che possono insegnarti le preghiere, ma questo non ti differenzia da un banale prete. Devi essere disposto a metterti in pericolo. Cambiati i vestiti. Così sembri un prete. Un esorcista non si nasconde dal male. Gli corre incontro. Sai a cosa ho assistito? All'epitome dell'oscurità. Questo bambino ha bisogno d'aiuto. L'ho vista al notiziario stamattina. È dove ha ucciso la sua famiglia. Ma cosa stai aspettando? Io ti conosco. Padre Daniel. Dal mio sogno. È il momento, Damian. Quel demon era il più forte che avessi mai visto. Il male è intelligente. Per una guerra serve un esercito. E a un esercito servono soldati. Si moltiplicano per diventare man mano più potenti. Ha un conto da regolare. Vattene! I love you so. Grazie per la visione!